Dio santo, vederlo in campo, che dobbiamo fare per vedere in campo il giocatore più tecnico dell'Udinese per distacco, il giocatore tra i più forti del campionato, che dobbiamo fare per vedere in campo Lazar Samaric, uno che finirà a giocare se va male nel Real Madrid, col sinistro più bello che esista, uno che sgonfia la palla quando gli arriva la stoppa, la fa sparire, va sotto al tappeto verde, voi non la vedete più perché c'è la suola, i tacchetti della scarpa di Samaric, poi c'è l'erba e il pallone è sparito, l'ha fatto sparire Lazar Samaric, un fenomeno, un fuoriclasse, non è uno che deve fare E come De Paul, dall'Udinese all'Atletico Madrid, Samaric è andata dall'Udinese al Barcellona, non lo so dove, io lo vedo più da Real e Barca che da Premier League perché è un po' compassato, è l'unico difetto che gli trovo, però ragazzo veramente i cui mezzi li abbiamo visti pochissimo fino a questo momento e quei pochi che si sono visti se uno ha un minimo di occhio si rende conto che parliamo di un fuoriclasse, non di un grande giocatore, di un fuoriclasse, uno che è proprio fuoricategoria